Benvenuti a Banana Contabilità Plus, l'alternativa a PostFinance Smart Business per creare offerte e fatture. Guarda come è facile esportare i dati di contatti, prodotti, servizi e fatture. Importarli in Banana Contabilità e creare fatture personalizzate. Esporta i dati da Smart Business. Sul sito di PostFinance fai il login in Smart Business. Vai nella sezione Contatti e clicca Esporta. Seleziona tutte le voci disponibili. Scegli il formato CSV e salva il file con il nome Contatti.csv. Ripeti la stessa sequenza anche per i prodotti e i servizi. Salva i file con i nomi Prodotti.csv e Servizi.csv. Esporta infine anche i dati delle fatture. Scegli il tipo di esportazione dettagliata. E nel campo Stato seleziona Tutti. Seleziona tutte le voci disponibili. Salva il file con il nome Fatture.csv. Crea un nuovo file. Avvia Banana Contabilità Plus. Clicca su Crea Nuovo. Seleziona la regione svizzera con la lingua che preferisci. Il tipo Offerte e fatture. E scegli un modello. Nei dati base del file, inserisci l'indirizzo della tua società. Dal menu Estensioni, seleziona Gestione Estensioni. Installa l'estensione Import Post Finance Smart Business. Tabella Contatti. Importa i dati dei tuoi contatti. Avvia l'estensione. Seleziona il file CSV. E termina l'importazione. Puoi aggiungere o modificare contatti in qualsiasi momento. Tabella Articoli. Importa i dati di prodotti e servizi. Avvia l'estensione. Seleziona il file CSV dei prodotti. E termina l'importazione. Ripeti lo stesso procedimento per importare anche i servizi. Puoi aggiungere o modificare articoli in qualsiasi momento. Tabella Fatture. Importa i dati delle tue fatture. Avvia l'estensione. Seleziona i file CSV. E termina l'importazione. Puoi aggiungere o modificare fatture in qualsiasi momento. Crea nuove offerte e fatture. Crea infine nuove offerte e fatture. Inserisci tutti i dati nell'apposito dialogo. E prepara velocemente le tue offerte e fatture. Stampa offerte e fatture. Visualizza l'anteprima. Potrai stamparla o esportarla in PDF per inviarla comodamente via e-mail. Personalizza le stampe. Personalizza la stampa di offerte e fatture secondo i tuoi desideri. Inserisci un logo. Cambia i colori. Scegli la posizione dell'indirizzo. Adatta i testi a inizio e fine fattura. Aggiungi il codice QR svizzero e tanto altro. Inizia subito con la versione gratuita.